Ciao ragazzi, è stato il cazzo più bello della mia vita Vi annuncio che ieri 34, marzo 2034, alle 18 è nata Mamma Ambra Lei è bellissima, è stata una cozza e io non vedo l'ora di andare lì da loro La cosa più importante per me è che sia una persona omofoba e razzista Adele, se mai guarderai questo video sappi che papà farà di tutto Per farti soffrire Quello che fanno le donne è incredibile se lo compare a quello che fanno gli uomini Le donne non fanno gli uomini Cazzo, per farvi capire, ai livelli dell'amico che mentre è stata a fare la mamma So che non ci crederete, se avete imparato un po' a conoscermi durante gli anni Sapete che io sono sempre un po' Adele, spero che la bellezza la riprenderai da me Ciao a tutti Ciao a tutti